L'edilizia tenta a contenere gli sprechi energetici, è il futuro per risparmiare e vivere meglio. Sentite questa iniziativa per formare gli addetti del settore e creare anche nuove opportunità di lavoro. Un accordo fra la provincia di Venezia, la Camera di Commercio, Confartigianato, Lance e la Fondazione Climabita, che prevede una serie di attività e programmi finalizzati alla diffusione dell'efficienza energetica nel settore delle costruzioni. Tra le varie iniziative sicuramente quella della Camera di Commercio, che metterà a disposizione 20.000 euro in un bando di finanziamento per concedere dei voucher utili a partecipare ai corsi formativi che illustreranno le soluzioni migliori per ottenere efficientamento energetico. È un settore in grossissima difficoltà, l'unico modo per rilanciarlo è qualità dei servizi che l'impresa rendono al consumatore, convinzione del consumatore che i servizi che utilizza di ristrutturazione oppure di nuove costruzioni sono utili anche per la sua tasca. I risparmi energetici ci sono, la qualità delle imprese è una cosa importante, quindi l'attività di formazione che faremo con questi corsi è proprio per ridare alle imprese qualità, alle maestranze e quindi indirettamente anche qualità del prodotto edilizio. Del contributo potranno beneficiare tutte le micro, piccole e medie imprese edili veneziane che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio 2014. Mettendo in moto questa filiera potrebbe ripartire anche l'economia di un settore importante, quale è quello dell'edilizia, perché investendo proprio sulle nuove tipologie costruttive, investendo sull'esistente, grazie ai liberi professionisti, agli amministratori condominiali, ai tecnici dei comuni, forse si riuscirà a ottenere un sostanzioso risparmio sulla bolletta anche dell'energia.